Cresce l'attesa a Salerno per il concerto di fine anno. Come noto a partire dalle 21 e 45 Piazza Mendola si riempirà di persone, soprattutto della musica del volo, il trio che ha trionfato nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Come si vede dalle immagini girate questa mattina, le operazioni di montaggio del palco sono praticamente ultimate e mancano solamente alcuni ritocchi. Dopo la musica, spazio al tradizionale brindisi di fine anno con il sindaco Napoli e il governatore regionale Enzo De Luca, cui seguirà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. A tal proposito va segnalato che quelli curati dal comune saranno gli unici, almeno legalmente, ad illuminare la notte del veglione salernitano. Il primo cittadino è infatti disposto il divieto su tutto il territorio comunale, fino alla Befana, di accensione, lancio e sparo di fuoghi d'artificio, mortaretti, petardi e bombette, un'ordinanza nella quale si annunciano multe fino a 500 euro per i trasgressori. Il concerto, ma non solo, consentirà a Salerno di essere nuovamente presa d'assalto dai turisti. Le attività di ricezione fanno infatti registrare il tutto esaurito e praticamente non c'è più un posto libero dove poter soggiornare in città. Insomma, un vero e proprio pienone anche a Capodanno. Nel frattempo varato anche il dispositivo per la mobilità. Tutta l'area circostante Piazza Mendola sarà interdetta al traffico e alla sosta, mentre sarà prolungato l'orario della metropolitana. Ultima partenza dalla stazione centrale a 1.51, mentre dallo stadio Reiki, dove c'è il grande parcheggio per auto e bus, l'ultima corsa partirà alle 2.21.